Mister, è arrivata la matematica, vinti vittorie, un pareggio, una sconfitta, questa cavalcata dell'Arabona l'aveva immaginata così? No, assolutamente, non l'avevo immaginata io così, ma probabilmente nemmeno gli avversari. All'inizio del campionato diciamo che erano altre le squadre che dovevano vincere il campionato, c'era San Giovanni, la Dinamo Santiago, che era due o tre anni che era lì, nessuno ci aspettava l'Arabona così in grado a spolvera, mi ha sbagliato niente, è stato oggi, è stato il coronamento contro un Ponte Decimo, oltretutto che era una retrocessa alla prima categoria, quindi anche loro hanno un organico molto valido.